Benvenuti, sono Röth Militano, divulgatore agricolo dell'ARSAC dell'Ufficio Divulgazione di Palmi. In questo video tratterò la compatibilità. Il problema della compatibilità si presenta al momento che vogliamo preparare le miscele. E perché vogliamo fare le miscele? Il primo motivo è voler fare più trattamenti in contemporanea, quindi combattere più avversità facendo un unico trattamento. Un altro motivo per il quale si ricorre alla preparazione delle miscele è quello di voler utilizzare più prodotti fitosanitari contro lo stesso parassita. Si procede quindi alla preparazione delle miscele per poter avere un risparmio di tipo economico, in quanto facendo poi un unico trattamento si risparmia tempo e denaro. Nel preparare le miscele bisogna però tener conto che si mescolano insieme due o più prodotti chimici e questi ovviamente interagiscono fra di loro. Questa interazione in alcuni casi può essere di tipo positiva. Si ha un effetto di sinergismo, quindi la presenza di un prodotto migliora l'effetto dell'altro e viceversa. In alcuni casi invece la presenza dell'uno annulla l'effetto dell'altro o viceversa. Si ha effetto quindi di antagonismo, con un annullamento dell'efficacia e quindi come se non avessimo fatto alcun trattamento. Il caso più grave però si ha quando i due prodotti interagiscono fra di loro ma risultano incompatibili. In questo caso si possono avere addirittura dei danni. I danni che si manifestano sulle piante a causa di incompatibilità sono i danni cosiddetti di fitotossicità e si può notare sulle parti di pianta trattata la presenza di ustioni, cioè bruciature, per esempio sulle foglie, sui frutti, con caduta poi delle stesse e danni anche poiché possono essere ingenti. Cosa bisogna fare quindi prima di miscelare due prodotti? Bisogna leggere attentamente l'etichetta. Sull'etichetta infatti troviamo riportato il quadrato di compatibilità dove quindi è indicato se un prodotto può essere miscelato un altro o meno. Si può chiedere inoltre anche consiglio al proprio venditore o all'agronomo di fiducia. Un altro strumento che si può consultare sono le tabelle di compatibilità. Questa che vediamo qui è un esempio di tabella di compatibilità. Si può notare che i vari prodotti sono riportati sia in orizzontale, quindi sulle righe, sia in verticale, quindi sulle colonne. La tabella va utilizzata tipo battaglia navale. Si legge il primo prodotto sulla riga e lo si incrocia con quello con il quale si vuole fare la miscela sulle colonne. Se nel punto di incontro c'è un pallino verde la miscela è fattibile, i prodotti sono compatibili. Se invece c'è un pallino rosso la miscela non è possibile, i prodotti sono incompatibili. Se non è presente alcun pallino allora la miscela o non interessa o si disconoscono gli effetti per cui in linea generale si può dire che è sconsigliabile provare a fare questa miscela. Alla prossima!